Il presidente dell'ABBA, l'associazione Bed and Breakfast di Agrigento, Carmelo Cantone, rivolge a nome proprio e dell'associazione un applauso alla questura e alla procura di Agrigento in riferimento all'intervento nel centro storico della città dove sono state scoperte case e vacanza ad inviti a case ed appuntamenti. Cantone afferma che l'operazione è stata utile a restituire serenità e decoro al centro storico e all'intera città, secondo un mosaico della legalità che da tempo le istituzioni tutte stanno ricomponendo con volontà e sacrificio, grazie ai numerosi interventi preventivi e repressivi in tutto il territorio della nostra città. L'intervento risolutivo dei poliziotti di Agrigento conferma ancora una volta l'impegno di tutte le forze dell'ordine per ripristinare la giustizia e il senso di sicurezza in tutta la provincia di Agrigento.